Ciao amici di TV Prato e cari amici del Borsi, buonasera. Tra pochi giorni saremo con voi con lo spettacolo Landscape, paesaggio, di Harold Pinter. Siamo qui Alessandro Averone, il regista, Derek Allen, Duff e io Christina Reinold, Beth. Abbiamo messo insieme qualche immagine per voi, sono l'immagine che più ci sono piaciute di questo lavoro su una coppia, sull'amore, sulla distanza, sulla comunicazione o sull'incomunicabilità. Non riuscivo a vedere il tuo viso, tutto ciò che sentivo era la pioggia sui vetri. Noi saremo al bellissimo Teatro Borsi e siamo felici di essere in questo cinema-teatro con un lavoro che è tra cinema e teatro. Come per il cinema e per il teatro ha scritto sempre Harold Pinter. Vedi, non è altro che la delicatezza del tuo talk, la delicatezza del tuo sguardo. I video e quello che vedete nella parte cinema sono creati da Fabio Iacuone e Luca Attili che lavorano tra il teatro e il cinema e lavorano tra la poesia e il teatro. E che vorremmo ringraziare perché ci hanno aiutato a entrare nel mondo di Beth e di Tuff, nel loro immaginario, nelle loro memorie, nella loro immaginazione, nel loro inconscio. Ciao a tutti, grazie di essere stati con noi, buona settimana e buona serata. Vi aspettiamo venerdì 10 e sabato 11 al Teatro Borsi a Prato.